Il principe Ferri e Meghan Markle, sono rimasti ancora una volta estremamente imbarazzati da un popolare cartone animato satirico negli Stati Uniti. Il principe Ferri e Meghan Markle, sono diventati una parodia negli Stati Uniti dopo che la coppia è stata selvaggiamente derisa dai griffin mesi dopo South Park, ha affermato un reale. Il duca e la duchessa di Sussex, sono stati al centro di un altro attacco umiliante, mentre i produttori della popolare satira di cartoni animati Family Guy hanno preso di mira brutalmente l'ex coppia reale. Ciò è avvenuto pochi mesi dopo che la coppia era stata derisa in modo imbarazzante in un episodio di South Park. Il commentatore della famiglia reale Kinsey Schofield è apparso nello show di Mike Graham su Talk TV, definendo la rimozione di Griffin come il peggior incubo di Meghan Markle. Ha avvertito che se Ferri e Meghan vogliono intraprendere una carriera di successo negli Stati Uniti, devono abbandonare l'idea di essere una parodia, aggiungendo che farlo è cruciale per il loro marchio. Schofield ha detto, mi entusiasma vedere due persone che si prendono così sul serio diventare una parodia qui. Penso che questo sia probabilmente il peggior incubo di Meghan. Abbiamo sentito che Meghan vuole diventare la prossima opera Winfrey. Girerà questo film Meet Me at the Lake, che la renderà una protagonista di Hollywood. Se vogliono avere quel tipo di successo, e Meghan vuole essere un influencer di celebrità, devono abbandonare l'idea di essere una parodia. Questo è fondamentale per il loro marchio. Il commentatore reale ha aggiunto. Dior non vorrà lavorare con qualcuno che il pubblico vede come uno scherzo. Vogliono lavorare con raffinatezza e con qualcuno che sia sincero.